Cosa ti aspetti quest'anno, considerato che il premio Eleonora Lavorre è molto seguito a Gela, ma anche dai paesi vicini proprio alla città? Siamo alla terza edizione, tante emozioni, perché noi iniziamo a settembre a conoscere i partecipanti, che ogni anno da tutta Italia sono tantissimi. Questo per noi è un grande orgoglio e una grande forza per andare avanti, tutto il ricordo di Eleonora Lavorre. La location è sempre la stessa, parliamo della rotondetta di Macchitella. Esatto, quest'anno avremo l'orchestra del vivo, grandi ospiti nazionali che verranno, tante news e tante novità che vi aspetterete il 28 agosto alle ore 21 a Rotonda Esti di Macchitella. Il ricordo di Eleonora è indelebile, non soltanto per te, fratello, ma anche per gli organizzatori, per i cantanti, per i presentatori. Esatto, oggi cantare Eleonora in tutta Italia per noi è stata una grande soddisfazione, grazie ai talenti che ogni anno ci permettono questo. e l'emozione è sempre più forte. Ele oggi è viva con noi, questo lo sento ormai da diversi anni. Quindi un grazie immenso va a Gela perché ogni anno partecipa numerosa. Per noi è molto importante avere la piazza piena perché dare forza ai ragazzi è la cosa più importante per i talenti. Quindi il vero premio è i vostri applausi. Quindi rispettiamo il 28 agosto alle ore 21. Possiamo svelare qualche iniziativa, qualche sorpresa o ancora è presto? Esatto, avremo ospite, dico qualcosina, tanto per lasciare un pochettino un po' di suspense perché è anche il giusto. Avremo ospite un inviato di Eleonora in Italia 1, ci saranno anche temi sociali perché il premio valorizza anche il territorio e molta attenzione anche il sociale. Quindi avremo ospiti che parleranno delle loro difficoltà e grazie all'arte, grazie allo sport, sono andati avanti. Quindi il sociale è importante anche. Si dice in bocca al lupo in questi casi? Crepi il lupo. A presto, grazie. 28 agosto, vi aspetto.